Guardiani è stata un'occasione perché noi come gruppo Zeiss eravamo proprietari del marchio Bickenberg e quando abbiamo fatto la ristrutturazione aziendale dalla quale siamo ripartiti circa 4 anni e mezzo fa abbiamo venduto questa partecipazione ed era l'unico prodotto sportswear, un po' sneaker nel mondo fashion che avevamo la famiglia Guardiani aveva appena chiuso l'azienda di famiglia e era intenzionata a dare il marchio in licenza noi siamo davanti a loro come stabilimento quindi è stato immediato andarli a trovare e proporci con il know-how che avevamo di Bickenberg per rilanciare questo marchio e così è partito tutto la scarpa è fatta di 80 componenti, basta che uno non ti dà un laccio, un occhiello, un contraforte e tu non puoi finire la scarpa quindi è una delle produzioni più complicate che ci sia è bello vedere che comunque grazie allo sport e grazie ai risultati sportivi che ho fatto poi anche il mondo della moda comunque ti guarda e quindi negli anni ho sempre rappresentato brand, marchi importanti oggi sono qua in qualità di testimonial di Guardiani ed è bello perché siamo innanzitutto entrambi marchigiani quindi veniamo dalla stessa terra, dalla stessa regione e poi perché questo tipo di scarpa comunque rappresenta oggi il mio stile quindi uno stile sempre sportivo perché atleta ormai lo sono dentro però che alla mia veneranda età deve mettere anche la giacchetta e quindi uno sportivo elegante è quello che sono oggi io grazie a tutti